gentili telespettatori buona giornata ieri parlavamo di feltri che se la prendeva con luciana lamorgese e se la prendeva con veronica gentili una giornalista una conduttrice televisiva e attrice italiana perché ha tre guardate 6 9 10 11 12 13 14 15 ha partecipato in 17 film primo film nel 1999 come te nessuno mai regia di gabriele muccino ultimo film di adriano giannini sarà per un'altra volta cortometraggio poi ha partecipato come opinionista a tanti programmi televisivi piazza pulita sulla sette nel 2013 coffee break sulla sette l'aria che tira eccetera eccetera ha scritto anche un libro gli immutabili la nave di teseo del 2020 è una persona comunque ha vinto anche un premio come giornalismo vediamo qual è il premio me lo sono perso me lo sono perso vediamo un po opere note collegamenti ha vinto un premio di giornalismo da qualche parte me lo sono me lo sono perso comunque commentando quel video di feltri mi sono fatto una domanda che mi ero fatto già in passato questa veronica gentili questa giornalista conduttrice attrice è una persona che criticava molto silvio berlusconi scriveva sul fatto quotidiano fatto quotidiano travaglio criticava berlusconi ricordate travaglio santoro e vauro ovviamente sembrerebbe comunque nata sotto l'idea di centrosinistra chiamiamo così con idee di centrosinistra quindi criticava berlusconi scriveva sul fatto e diventa adesso un personaggio di punta di media sette dove vogliono dargli anche altri programmi io l'ho sentita a parte a parte questa che io l'ho sentita come opinionista proprio ieri guardavo su rete 4 sto programma e mi sono fatto l'idea che non è una persona con grandissimo carisma da 1 a 10 gli darei un 6 sufficiente diciamo che non mi ha lasciato estere fatto questo programma televisivo condotto da lei non mi ha neanche deluso diciamo l'ho visto punto e basta e poi ho cambiato canale ma non ecco ci siamo capiti però il punto è questo che ho già fatto in un altro video perché perché berlusconi proprietario di tre televisioni non ha mai cercato di imporre sulle sue televisioni un certo tipo di giornalismo dire beh io ho tre televisioni la sinistra ha in mano molti giornali di importanza notevole in italia ha in mano molte trasmissioni televisive con tanti giornalisti di sinistra da lilly gruber a formigli a fazio e santoro e l'altro floris e chi più ne ha più ne metta e l'altra che mi sono dimenticato non mi ricordo non mi ricordo più pertanto dopo tutte tutti questi giornalisti di centrosinistra questi giornali di centrosinistra un po il sistema un po il sistema che c'è in italia da tanti anni da decenni questo apparato di sinistra che sta dietro quasi tutto berlusconi proprietario di tre televisioni importantissime hanno fatto la storia della televisione italiana rete 4 canale 5 italia 1 non ha mai preso in mano la situazione dice bene adesso nelle mie televisioni io faccio tutti i programmi di centrodestra e io parlo dagli inizi dagli anni 90 o prima perché silviuccio caro e poi dopo pier silviuccio caro adesso mi sembra che sia pier silvio che abbia in mano le televisioni come mai ci sono per esempio questa come questa veronica gentili che ovviamente criticava tuo padre criticava tuo padre diventa diventa un conduttore televisivo di punta forse ho capito forse ho capito qui ci deve essere l'insegnamento di berlusconi quale un nemico lo metto dalla mia parte gli passo uno stipendio e parlerà bene di me o perlomeno non parlerà male di me perché sentendo sentendo veronica gentili nelle sue trasmissioni sembra molto così a primo impatto una giornalista di centrodestra perché fa delle domande dove cerca comunque di mettere in buona luce il centrodestra e un po in difficoltà il centrosinistra molti dicono è tutta una finta per tutelare il suo lavoro che non sia stato veramente questo l'obiettivo di berlusconi portare i critici contro di lui nella nelle sue televisioni come dire adesso sei un mio dipendente ti pago anche dei bei soldi ti faccio ti do una fama però ovviamente non andrai a parlare male di me mentre se tu stai in altre televisioni probabilmente dalla mattina alla sera parlerai male di me questa è l'unica spiegazione che io mi do se no non ce no se no come allora se so tutti quelli che parlano male di te li chiami a lavorare a media set poi negli anni ha cominciato a contrattare i del debbio i porro giordano che hanno comunque creato dei programmi di centrodestra molto visti perché gli italiani hanno bisogno di sentire anche dei programmi di centrodestra perché la maggioranza assoluta degli italiani vota a destra ma prima ma tutti i programmi erano di sinistra lavaggio del cervello cercando di farti capire cambiare idea manipolazione i programmi di del debbio giordano porro sono super visti fanno audience incredibili proprio perché sono gli unici programmi dove la gente finalmente ha la certezza di sentirsi dire delle cose in un certo modo di non di non sentire o meno di non sentire alcune cose che vengono messe in altri programmi e di sentire una verità che arriva dalla propria area politica se no non mi spiego come come possano succedere queste cose io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata rivederci e tutti a tutti e grazie